Valerio Rossi Albertini, appunto, diceva Claudio che è lì le polveri sottilissime, tra l'altro, perché poi il problema è questo, parliamone chiaro. Allora, volevo capire, intanto lui ha detto che c'è un raffronto molto forte fra l'inquinamento che c'è in quelle zone e nella nostra Italia, nelle nostre città. A che punto siamo qua? Allora, inquadriamo il problema. Perché c'è la necessità della mascherina che, entro certi limiti, riesce a filtrare le polveri? Perché in natura non esistono polveri con granuli così sottili come quelle che vengono prodotte dai motori a scoppio o delle caldaie. La polvere con cui noi siamo stati in contatto nel corso delle migliaia di anni è fatta di granuli molto più grandi. E quindi il nostro sistema di respirazione è predisposto per riuscire a filtrare polveri che abbiano granelli grandi, ma non polveri che abbiano granelli così piccoli. Perché il nostro organismo non è mai stato esposto alla possibile inalazione di queste polveri. Ecco perché ci coglie impreparati la produzione di polveri sottili. Ora, veniamo a quello che stava dicendo. Quando si parla di PM10, PM5, forse il pubblico un pochino si perde. O tecnico però è bene a dire. Allora, PM10 significa... Allora, PM sta per polveri micrometriche, ma è una cosa molto semplice. Prendiamo un millimetro, immaginiamo di avere un regolo, di avere una riga. Un millimetro è la divisione minima. Se idealmente lo potessimo dividere in altre mille parti, avremmo un PM1. Dieci di queste mille parti sono un PM10. Ecco, allora è una scala di polveri estremamente sottili, di granelli, di dimensioni veramente infinitesime, che non possono essere o con molta difficoltà, viste perfino al microscopio, ma che hanno un loro effetto, perché ricordiamo, visto che il nostro sistema respiratorio non è in grado di filtrarle, arrivano all'interno dei polmoni, degli alveoli polmonari, trapassano dagli alveoli polmonari nel flusso ematico e là si diffondono in tutti quanti i distretti corporei. E quindi possono andare a contaminare... Valerio Sabertini, il problema è comunque molto serio. Ma è serissimo. Perché secondo me viene anche un po' sottovalutato l'impressione che io... Ah, colpevolmente, ci sono dei dati ufficiali. Ci sono, certo, lo sappiamo, ci sono dei dati ufficiali. Però se c'è proprio la consapevolezza da parte del cittadino di quello che accade in queste città, perché effettivamente tu dici sì, mettiti la mascherina, va bene, però la gente lo vive, cioè subisce questo grande inquinamento, invece Claudio ha detto guardate che invece se ne parla molto e le persone vogliono che il problema si risolva. Stiamo abituati a vedere che la Cina è sempre un po' la prima della classe, quindi mi fa specie che non si è intervenuta su questo. Sta intervenendo, dice Claudio Pagliara. Sta intervenendo, ma come diceva giustamente, i cinesi ancora adesso bruciano montagne di carbone, quindi stanno dando un colpo alla botte e uno al cerchio, soltanto che il colpo alle energie rinnovabili, cioè per dirla fuori di metafora, lo sviluppo di tutte quante quelle tecnologie che consentono di produrre energia in maniera pulita è relativamente lento rispetto invece all'uso massiccio che ancora si fa dei combustibili tradizionali. Ora, se ne stanno prendendo coscienza, è sì che ne stanno prendendo coscienza, cioè per dare qualche informazione anche molto significativa, molto eloquente, addirittura vendono in Cina le bombolette di aria canadese, di aria pura delle foreste canadesi per fare delle inalazioni in caso di necessità. L'aria sta diventando... Claudio, Claudio sorride. Mi raccontava, io sono stato a Pechino dall'addetto scientifico, abbiamo parlato lungamente, addirittura nei circoli più esclusivi il bene di lusso è diventato l'aria, immettono aria pulita all'interno di ambienti che sono chiusi ermeticamente per evitare proprio l'ingresso... Claudio, Claudio, voglio ringraziare Valerio Rossi Albertini, perché? Perché ti voglio dire, Valerio, che torneremo su questo argomento, quindi perché vogliamo stare molto attenti. Perché adesso abbiamo visto la Cina, però, come si dice, se Atene piange, Sparta non ride, perché anche qui in Italia la situazione è molto più preoccupante di quanto di solito non si percepisce. Infatti, grazie Valerio Rossi Albertini, CNR... Grazie.